Non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa... Vieni su Ale, vai, vai! Corri! vai oh non è roba questa è già un bacco sono no 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 è perché ormai loro no 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 senti là è nido tu sei la superazione guarda là che ha tirato il mio borsale qui si e il capione è schietto lui sta lendo a casa no 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 Grazie a tutti. Cosa ha fatto il cascato? 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 8 9 10 11 12 15 16 16 16 17 19 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 26 26 26 26 28 30 30 30 bravo bravo hai ripartito le 5 e me 40 Andrea adesso gli hai messo il cavallo andrei a mettere quanta di macchina non ci muovo ma la fatta a posta ma la fatta a posta l'uomo allora vediamo che caso del sguardo c'è una roba c'è una roba la fatta a posta ma la fatta a posta la fatta a postare ma la fatta a posta ma la fatta la fatta a posta l'uomo ma la fatta a posta l'uomo quindi devi avesse le fatta a posta no ma io ragionavo di qua penso a te ti fermi prima invece per uno No, no, non vanno. Vediamo... No, lo so, ti ho già visto. No, proprio lì, andiamo via, andiamo via. La carta dice che non è collegato. l'ho chiamato Fabio 8 o no? 9, 9 sì Lore, Lore Lore oh che sbaglio sì è venuto a Pancona sì stai parlando? sì no 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 venerdì sì no sì sì no salvata sulla riga niente questa no traversa la salvata sembra qui fa il numero ma si fa così sì 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 Grazie